È un piacere conoscere e rivedere soprattutto Bruno Giordano qui a Pescara per il docufilm sull'indimenticato Diego Armando Maradona che è stato tuo compagno di squadra, soprattutto un tuo grande amico, insomma già tante emozioni no? Sì, orgoglioso di essere stato suo compagno di squadra ma ancora più orgoglioso di essere stato suo amico perché credo sia stata una fortuna che pochi hanno avuto, un'amicizia così lunga e importante per cui adesso ci manca tanto, ogni volta che viene nominato il nome di Diego c'è una fitta al cuore però credo che abbia lasciato qualcosa di molto positivo nel far capire che anche da un posto più lontano del mondo si può arrivare ad essere, non dico Diego Armando Maradona perché Dora ci ha messo di tutto però con la volontà, con la forza si può arrivare all'obiettivo che uno ha in testa per cui questo mi ha insegnato ma soprattutto fuori dal campo per me sicuramente è stato più grande come amico che come calciatore e questo fa capire insomma che amicizia che avevamo Poi soprattutto Gabriella Simoni, giornalista di Canale 5, racconta in questo docufilm la partita nel fango, quella che giocò Maradona nel marzo del 1985 e tu dovevi ancora arrivare a Napoli però ecco questo fa capire il grande cuore la grande generosità che aveva questo uomo Ma guarda io e Diego ci eravamo conosciuti già nel 79 in una partita Italia-Argentina poi mi ricordo nell'83 quando io mi ruppi la gamba mi arrivò un suo telegramma insomma da subito si è ristaurata questa amicizia forse essendo due scugnizi c'era questa attrazione e poi mi ha voluto fortemente al Napoli quella partita è una partita indimenticabile ma non perché si è giocata nel fango certo adesso pensare a Messi, Ronaldo, Mbappé che giocano una partita così ma soprattutto perché il Napoli non voleva mandare i calciatori a giocare perché aveva paura che si facevano male e Diego coprì con tutta l'assicurazione tutti quei calciatori Adesso è impensato Adesso non so però è un altro mondo sia nel calcio che fuori c'era questa aggregazione, questa voglia di fare qualcosa per il prossimo non dico che oggi non lo fanno però ecco quelle cose sono indimenticabili perché a distanza di 40 anni ancora stiamo parlando di questo gesto Ci racconti un aneddoto magari inedito di questi tre anni che hai passato con Maradona al Napoli ce n'è uno in particolare Io il primo anno che arrivo a Napoli mi faccio male alla clavicola io ancora non avevo casa perché ancora dovevo trovare casa io e la mia famiglia eravamo ancora in albergo e Diego ci ha ospitato per 15 giorni a casa sua dandoci la sua camerata a letto e lui andava a dormire in un'altra stanza questo ha fatto che io ogni giorno dicevo Diego dai ritorno al nonno tu fino a che non guarisci devi stare qua questo era Diego, era un cuore immenso, generoso forse faceva più per gli altri che per se stesso e forse qualche pseudo amico chiaramente poi l'ha tradito perché abbiamo visto gli ultimi periodi di Diego che sono stati abbastanza drammatici Sono stati risultati eccezionali, avete vergato pagine indimenticabili lo scudetto nell'87 con la Coppa Italia, un double fantastico probabilmente ripetibile ecco in quella stagione il gol realizzato da Juventus a Torino forse quella è stata la svolta, il tuo gol Quello ci ha dato la consapevolezza che ce la potevamo giocare poi ci sono state altre partite però insomma andare a vincere a Torino con la Juventus in quel modo perché li abbiamo dominati in lungo e in largo abbiamo creato tantissime occasioni e ha fatto capire che ce la potevamo giocare il fatto, io il mio ultimo gol con Napoli se non sbaglio l'ho fatto proprio qui a Pescara di testa su un cross di Napoli, io di testa avevamo le maglie rosse 1988 sì sì sì, è stato credo un mazzo 0 a 1 0 a 1 sì, il gol di testa per me era una rarità perché io di testa per cui quelli sono stati anni dimenticabili ma tuttora sono indeleboli nella mente dei tifosi mi ricordo sempre Diego che mi diceva ogni giorno che passerà saremo ancora più grandi perché aveva capito che non era semplice poter continuare a vincere così e di fatti il tifoso napoletano vede in noi quella squadra quelle soddisfazioni che abbiamo dato in campo ma soprattutto fuori perché noi rappresentavamo una rivalsa sociale del tifoso napoletano non soltanto dello sportivo ti faccio le ultime due una in generale perché è chiaro che il calcio è cambiato rispetto a prima si parla tanto della crisi nazionale anche se poi insomma la nazionale vince gli europei poi è vero viene esclusa per la seconda volta consecutiva dai mondiali per mano della Macedonia però ripeto 5-6 mesi prima aveva vinto gli europei qual è il problema? Dov'è la verità secondo Bruno Giordano? Io credo che si trascura troppo il talento basta vedere adesso un giocatore come Di Bala che nei primi dieci al mondo di tecnica, di fantasia si fa fatica a trovare una squadra perché in Italia si pensa molto più alla tattica al modo di stare in campo e invece credo che poi alla base di tutto ci deve stare quello ma ci deve stare soprattutto la tecnica perché senza tecnica, senza giocatori bravi non ho mai visto una squadra vincere con giocatori mediocri Quindi prima si insegnava ai tuoi tempi di più la tecnica? Sì, molto A livello di base? A parte che c'era la palestra della strada era tutto diverso Esatto, le famose sponde, l'oratorio adesso io vado in giro per i campetti vedo i bambini adesso è soltanto una questione tattica vedi i ragazzi che fanno calciare fanno fare un tunnel anzi se uno fa un tunnel si arrabbiano è tutta una questione di tecnica tattica che poi ti porta ad essere bravo e attento durante la partita però poi quando hai il pallone tra i piedi diventa un problema L'ultimissima Bruno grazie per aver accettato il nostro invito sei stato veramente disponibile e cortese sulla tua fugace ma intensa esperienza all'Aquila come allenatore stagione 2002-2003 che ricordi hai? Bellissimi bellissimi una società in difficoltà il presidente l'anno prima aveva fatto grandi cose pensava di poter fare lo stesso l'anno successivo e andò male quell'anno credo che il Pescara con la Fermana vinsero Pescara e Avellino Pescara attraverso gli sparenti per cui chiaramente si si aspettava molto di più da quell'anno però io sono andato anche per il decennale del terremoto è una città non per il terremoto ma proprio perché sono stato bene anche perché ci sono anche tanti tifosi del Napoli della Lazio è una cittadina che la tengo nel cuore poi c'è stato affetto insomma a distanza di anni nei tuoi riguardi molto molto quindi hai lasciato il segno non ho fatto grandi cose sotto l'aspetto dell'allenatore perché ti ripeto avevamo dei problemi però in alcune partite abbiamo fatto abbiamo fatto un bel calcio infatti mi ricordo e chiudo veramente l'ultima partita proprio contro il Pescara 2 a 4 in casa si mi ricordo che volevamo giocare assolutamente c'era la neve ci siamo messi lì a spalare pur di giocare poi il Pescara ci ha fatto 4 gol sarebbe stato meglio rimandarla però il Pescara era di un altro livello grazie ancora a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi